Chi ha nelle esportazioni una parte considerevole del proprio fatturato deve essere messo in condizione di riaprire e lo stesso vale per le imprese che fanno parte dell'indotto. Se non ci sono numeri che possono dimostrarlo allora si potrà fare con un'autocertificazione. È il senso della lettera inviata ai prefetti toscani dalla presidente della regione Enrico Rossi che si basa sull'interpretazione della DPCM del 10 aprile. L'obiettivo è facilitare l'apertura delle aziende legate all'export. Si dovranno considerare le imprese per cui almeno il 50% del proprio fatturato in almeno uno degli ultimi tre anni è rivolto all'estero, scrive Rossi. Secondo cui, siccome non vi è nessun dato che consenta di cogliere le imprese appartenenti alle filiere, tutto questo deve basarsi su un'autocertificazione da parte dell'impresa Leader. La regione, pensando a una riapertura anticipata, aveva individuato dieci giorni fa 3.000 aziende toscane che esportano almeno il 25% sui mercati internazionali. Imprese che producono macchinari, altre della pelletteria e del cuoio, l'oreficeria di Arezzo e tutto il settore della moda, in tutto 90.000 lavoratori diretti e altri 25.000 nell'indotto che insieme realizzano un terzo della PIL regionale. La nota dei ministeri, che limita la possibilità di una riapertura anticipata prima del 4 maggio alle sole attività produttive orientate in modo prevalente all'esportazione, ovvero che esportano almeno la metà del fatturato, riduce il perimetro, ma secondo l'IRPET circa 2.000 imprese esportatrici toscane possono riaprire e a queste si aggiungerà tutto l'indotto e la rete di fornitori.